Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. SPS Radio App. Il presidente italiano Mattarella lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina. Nello sport l'Argentina vince la Copa America di Calcio e oggi riprende il Tour de France con la sedicesima tappa. Buongiorno. L'annuncio è stato dato dallo speaker Mike Johnson. E lo stesso Trump ha intanto annunciato che il senatore dell'Ohio James David Vance sarà il suo vice nella corsa alla Casa Bianca. Vance in passato era stato critico di Trump paragonandolo ad Atol Fittler, commento del quale poi si è pentito ritirandolo. J.D. Vance è un ex venture capitalist, ha 39 anni ed è noto per il bestseller del 2016 Hilly Billy LG. Intanto i delegati della convention repubblicana, oltre alla nomination di Trump, hanno anche approvato la nuova piattaforma del partito con una svolta sull'aborto che lascia agli stati ogni decisione sulle restrizioni e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Trump ha nel frattempo annunciato di avere cambiato il discorso che pronuncerà giovedì, quando gli sarà ufficialmente annunciata la nomination repubblicana e lancerà un appello all'unità nazionale invece di criticare i quattro anni di presidenza di Joe Biden. E continuano le critiche ai servizi segreti per le misure adottate a Butler in Pennsylvania, dove l'ex presidente è stato ferito a un orecchio in un attentato alla sua vita. La direttrice dei servizi, Kimberly Chaitley, ha difeso le misure adottate e nel frattempo continuano a aggiungere a Trump messaggi di solidarietà dopo l'attentato, incluso quello del capo della Commissione europea, Eric Mamar. La violenza politica non ha un posto in una democrazia. Siamo preoccupati, ovviamente, di tutte le violenze, sia negli Stati Uniti o in altri, che è di una natura politica e, in effetti, di qualsiasi natura. Siamo credere, e questa è la fondazione della Unione europea, che il dialogo è la base per trovare accordi, dove ci sono areas di disaccordo, e la democrazia è precisamente per questo, è per cambiare idee. Veniamo in Australia e i governi statali prendono le distanze dal sindacato Construction, Forestry, Maritime, Mining and Energy Union, dopo le accuse di infiltrazione di bande di bikers nella sede del sindacato in Victoria. Il potente sindacato è accusato di corruzione anche in New South Wales. La Premier del Victoria, Jacinta Allen, ieri ha chiesto che il ramo edile del gruppo sindacale venga espulso dal Partito Laborista del Victoria. Intanto l'esecutivo nazionale del CFMEU ha messo in amministrazione controllata la sede del Victoria, ma il segretario nazionale, Zach Smith, dice di opporsi alla revoca della licenza del sindacato. Il movimento è capabile di addressare allegazioni di wrongdoing within our own ranks. Siamo più che capabili di regolare i nostri affari e di gestire situazioni come questa. Sento che c'è stata una discussione sulla diregistrazione dell'Unione. Per essere bambini, questo sarebbe assolutamente diabolico per i lavoratori in questo paese. Intanto la sede statale del Victoria del sindacato è stata deferita all'organo di vigilanza sulla corruzione a seguito di accuse di bullismo, intimidazione e rapporti con organizzazioni criminali. Trasferiamoci a Gaza, dove le autorità locali temono che la struttura dell'ospedale Nasser possa crollare. Dopo il bombardamento di ieri dell'aviazione militare israeliana, nell'attacco sono morti almeno 90 persone e 300 sono rimaste ferite. Israele dice che l'attacco aveva come obiettivo di eliminare uno dei leader di Hamas. Intanto buone notizie sui rifornimenti di materiale medico nella striscia, dopo che le Nazioni Unite hanno autorizzato l'uso di mezzi corazzati per proteggere i convogli di aiuti umanitari. Scott Anderson, direttore dell'UNRWA, dice che le prime consegne potrebbero avvenire già da domani. Le veicoli armati sono arrivati, alcuni inizi saranno arrivati domani e al resto del mese. Il equipamento personalizzato è arrivato, alcuni iniziano iniziando domani e altri iniziano iniziare dopo a questo mese. E alcuni equipamenti di comunicazione hanno anche stato approvati. E l'Unione Europea ha annunciato sanzioni contro cinque persone e tre organizzazioni israeliane, definendole responsabili di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani contro i palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. L'elenco include anche ZWAV-9, un gruppo che secondo l'Unione Europea ha regolarmente bloccato i camion degli aiuti umanitari che trasportavano cibo, acqua e carburante nella striscia di Gaza. E tra gli individui sanzionati dall'Unione Europea, anche Baruch Marzel, che ha apertamente chiesto la pulizia etnica dei palestinesi. Questo un suo commento fatto nel 2019. Trasferiamoci in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky si è detto favorevole alla partecipazione della Russia al prossimo Vertice sulla Pace. Zelensky sta lavorando ad un altro incontro internazionale, dopo quello di Lucerna del mese scorso, al quale però erano assenti Russia e Cina e che potrebbe tenersi a novembre, come ha detto lo stesso Zelensky. I believe that we're ready to hold the second summit sooner rather than later. And I believe that representatives of Russia should be present at the second summit. I set a goal that in november we would have a fully ready plan. So the summit, probably, well, the plan and everything else for the second summit A proposito delle elezioni presidenziali americane, Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta a collaborare con qualsiasi governo sia in carica negli Stati Uniti, compresi i repubblicani. Intanto sull'Ucraina è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua visita in Brasile. Dopo il suo incontro a Brasilia con il Presidente brasiliano Lula, il Capo dello Stato ha lanciato un nuovo appello alla pace. Si giunge una pace che non può che essere una pace giusta perché si ha duratura e quindi basata sul diritto internazionale, sul rispetto degli altri Stati e sul rispetto delle regole dell'ONU. Abbiamo concordato pienamente che il mondo ha autentico bisogno di pace. E torniamo in Australia. Un uomo è stato arrestato a Ipswich in Queensland, accusato di omicidio dopo che il corpo di una donna è stato trovato in un appartamento nel sopporgo di Leicard. Gli agenti sono intervenuti dopo che una parente della vittima ha chiamato la polizia dicendo di essere preoccupata. Il sovrintendente Gary Watts dice che la donna è stata accoltellata e che il presunto autore dell'omicidio è stato arrestato mentre tentava di fuggire in automobile. Il mercato dei cambi, il dollaro australiano vale sesta. 68 centesimi di quello americano e 62 di euro. Passiamo allo sport, Coppa America di calcio. L'Argentina ha vinto la Coppa America battendo per 1-0 la Colombia nella finale giocata a Miami. La rete vincente è stata messa a segno dall'Autaro Martinez al settimo minuto del secondo tempo supplementare dopo che quelli regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. A campionato europeo di calcio Under-19 l'Italia ha battuto la Norvegia per 2-1 in vantaggio i norvegesi con Braut al 35esimo e gli azzurri poi pareggiano con Di Maggio al 44esimo e si portano sul vantaggio definitivo con Zeroli al 51esimo. Il campionato si gioca in Irlanda del Nord e l'Italia difende il titolo che ha conquistato lo scorso anno a Malta. Ciclismo Tour de France. Oggi si corre la sedicesima tappa da Groussaint a Nîmes che sarà trasmessa in diretta dalla SBS TV con inizio alle 9.30 di questa sera. Chiudiamo quindi con le previsioni meteorologiche. A Perth giornata di sole 22 gradi, a Delaide possibilità di pioggia 14 gradi, invece a Melbourne pioggia intensa che poi migliorerà nel corso del pomeriggio 14 gradi, a Dobart possibilità di pioggia 13 gradi, a Canberra pioggia in mattinata poi miglioramento delle condizioni 11 gradi, a Sydney possibilità di pioggia 15 gradi, parzialmente nuvoloso a Brisbane 19 gradi, possibilità di pioggia anche a Cairns 27 gradi e a Darwin invece giornata di sole 32 gradi. Grazie.